Paccato con l'Europa, penso che la paura è evidente, ne sentiamo anche in queste parole, in questo racconto, però devo andare di corsa. Mi fa venire la parola, vedendo Macron penso anche la battaglia che loro hanno sempre fatto contro il fascismo, la liberazione. Tornavo all'inizio quando lei parlava dei bambini, quando diceva, c'è un'altra frase da chiarire, quando ha detto mio nonno è stato felice, è cresciuto felice, era un periodo di dittatura ed era quella lì, forse è a quello che si riferiscono. Anche quella è stata una distorsione, mi hanno attribuito una frase mai detta, mio nonno è stato felice, ha avuto un'infanzia felice sotto il fascismo, non ho mai detto questo, mio nonno era nato nel 1908, era un antifascista, quindi l'infanzia l'ha avuta sotto Vittorio Emanuele III innanzitutto. Ma serve per chiarire? Sì, volevo sostanzialmente richiamare l'attenzione su questa tesi grottesca secondo cui i bambini non possono essere felici in dittatura, in primo luogo perché noi oggi in Italia nel 2022, se guarda il rapporto Unicef, abbiamo tantissimi bambini abusati, violentati, maltrattati, abbandonati, quindi non è che siccome noi siamo in una democrazia liberale i bambini sono tutti felici. Semplicemente trovo grottesco il ragionamento perché fino a 1945, fino a 1946 l'Italia non era una democrazia liberale a suffraggio universale, le donne non votavano prima di allora, quindi secondo questo ragionamento assurdo noi dovremmo pensare che soltanto per parlare del tempo storico dopo Cristo, per 1946 anni i bambini sono stati tutti infelici, ma è chiaro che sono discorsi talmente ideologici, ma è fondamentale comprenderli perché questo discorso dei bambini che possono essere felici soltanto nelle democrazie liberali serve a massacrare i bambini musulmani nelle dittature, cioè le spiego qual è il gioco squallido che fa la propaganda occidentale, il gioco squallido è quello, noi bombardiamo le persone, le rimbecilliamo e facciamo credere loro che i bambini possano essere felici soltanto negli Stati Uniti e in Italia. Quindi se poi andiamo a massacrare i bambini musulmani per esportare la democrazia, poi gli italiani si sono tutti quanti rimbambiti e ripeto una pappardella questa frase, ma i bambini possono essere felici soltanto in Italia e soltanto negli Stati Uniti, noi massacriamo migliaia di bambini musulmani con la scusa che dobbiamo portare la democrazia come si fa in Italia e questa è la manipolazione. C'erano degli scontri conseguenziali, sappiamo tutti che l'Iraq nasce con una fake clamorosa in cui è caduto tutto il mondo, da New York Times a tutti, per carità, arme letali invece non esistevano, lo stesso sappiamo tante cose su questo, effettivamente è vero, dovremmo fare un po' di mea culpa e le faremo anche probabilmente quando saremo un po' più sereni su quello che sta succedendo in Ucraina. Però le devo chiedere una cosa. Grazie. Grazie. Grazie.